Siamo al Planai Stadium, adesso Zanella ci racconterà che cosa ha scelto per la strumentazione di questo concerto. Per questo concerto è appunto Live Europe, siccome ci sono molti musicisti, la strumentazione è abbastanza compatta. Siamo a scelto il mio bass e il mio 3, questo qua, che salta anche per gli occhi 1000, sempre dotato di strutlock, in modo che mi rischia da un bass. Poi i cavi, i cavi reference, che uso sempre e porto sempre con me. Ecco l'occasione per salutare il dottor Angelo Torpini, la reference, e un che salvo dagli 10 metri. Questi cavi passano al pedale del volume e vanno all'ampli. L'ampli è abbastanza compatto perché comunque il pedale del volume, avendo già la monopola del gain, permette di avere un buon volume, anche se questo è un ampi esageratamente grande. Qui, in parallelo, non ho attaccato l'accordatore come di consueto, bensì una DI Box, in modo che il suono sia ancora più grosso. Ovviamente siamo anche portati di Bodypack, che sono in tua organizzazione, e questa è la mia organizzazione, perché sto live in Europe. Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!